Anticipazioni una vita, trama puntate, lunedì, 14 marzo 2022. Natalia, cerca di fare il possibile, per far avvicinare Aurelio e Annabelle. Quest'ultima, sembra sempre più ben disposta, nei confronti di Chesada. Inoltre, è convinta della sua innocenza su tutto, ed inizia a pensare che sia cambiato, e che sia diventato, una brava persona. Annabelle ha sempre più dubbi, sui suoi sentimenti. Genoveva e Marcos, prendono le distanze, e decidono di concludere il loro rapporto di lavoro. Entrambi, convengono sul fatto che la soluzione migliore, sia quella di andare ciascuno, per la propria strada. Miguel chiede a Marcos, la possibilità di abbandonare il caso di Camino, di cui si sta occupando, dato che intende allontanarsi dalla famiglia Bacigalupe, in generale. Marcos gli chiede, però, come favore personale, di continuare ad occuparsi del caso, dato che la giovane Camino è la figlia di sua moglie, e lui ci tiene particolarmente. Iachinto, continua a sforzarsi per evitare la tentazione di Indalecia, ma alla fine la cugina di Marselina continua a sedurlo, ed i due sono molto vicini, a lasciarsi andare alla passione. Iachinto si sente in colpa, per sua moglie.